E questa è una delle cose che molto spesso ci sfuggono quando veniamo al cult. Il Signore si aspetta di ricevere qualcosa da noi ed è un aspetto importante questo, di ricevere da noi l'adorazione, la lode, la gratitudine. Perché questo possa avvenire ci vuole partecipazione. Molte volte mi è capitato, soprattutto tra gli anziani, di ascoltare una frase del tipo no, sono venuto ad ascoltare il culto, poi finita la predica sono andato subito via. È come se fosse semplicemente qualcosa da assorbire e nulla da offrire. Ma il culto non è questo. Il culto è una celebrazione del Signore. È un canto corale che la Chiesa fa nel celebrare le sue lodi, nel manifestare il senso di profonda gratitudine che c'è nei nostri cuori e di partecipare insieme con un'unica voce quella speranza che ci unisce, che poi diventa certezza per l'opera che Cristo ha fatto. E' importante questo. E anche quando ascoltiamo la parola di Dio dobbiamo farlo con un senso di profonda adorazione e di gratitudine al Signore. Quindi partecipiamo pienamente al culto offrendolo al Signore. Ebrei, capitolo 4. Oggi voglio incoraggiare voi e me, considerando una delle promesse più gloriose che ci apre la mente alla comprensione di qualcosa di straordinario, l'attitudine del nostro Dio verso coloro che ha redento per mezzo del sangue del suo figliuolo Gesù Cristo. E questo è quello che vogliamo sempre tenere bene a mente. Ebrei, capitolo 4, dal verso 14. Leggeremo fino al verso 16 che segna la fine del capitolo. Ebrei, capitolo 4, dal verso 14. Così leggiamo. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare ed essere, scusate, soccorsi al momento opportuno. E trovare grazie ed essere soccorsi al momento opportuno. Allora, questo brano ci parla di sicurezza, di certezza, ci parla di coraggio, di fiducia, ci parla cioè di accostarci con piena fiducia al trono della grazia. Guardate, lo scrittore parla di piena fiducia, parla di accostarsi e parla di un trono che è un trono di grazia. Ora, consideriamo questi aspetti. Perché lo scrittore invita i credenti ad accostarsi a Dio? Beh, questo invito è necessario perché è in Dio che noi troviamo il soddisfacimento pieno della nostra esistenza. Noi siamo stati creati da Lui in vista di Lui e solo in Lui noi troviamo il senso reale della nostra vita. Tutti i mali che cadono su questa misera umanità di cui anche noi facciamo parte dipendono sempre e solamente da un'unica realtà. Dal fatto che l'uomo si è discostato da Dio quando ha scelto il peccato anziché rimanere fedele a Lui. E questa realtà di allontanamento, di separazione da Dio ha creato tutti i problemi che l'umanità ha e che ancora si faranno più acerbi non solo sulla terra negli ultimi tempi ma si faranno più acerbi eternamente quando l'umanità sarà chiamata ad accostarsi a ben altro trono. Un trono non di grazia ma di giudizio. Ma per noi è importante accostarci perché è presso Dio che noi ritroviamo la nostra vita. la benedizione, il perdono, la grazia, appunto il dono della vita eterna in Cristo Gesù. Ma il problema perché allora ci deve essere l'invito ad accostarsi? Ma perché vedete molte volte la vita ci aggrava con mille pensieri che ci allontanano e ci distolgono da Dio. Molte volte la vita ci porta a allontanarci dal Signore e in più delle volte il diavolo ci tenta e ci porta a fare considerazioni nella nostra mente che nulla hanno a che vedere con la verità della parola di Dio. Ci sentiamo aggravati dai sensi di colpa, dalle nostre debolezze, dai nostri fallimenti, dalla nostra pochezza e per questo a volte ci sentiamo come incapaci o indegni di andare a Lui. Ci sentiamo quasi nell'impossibilità di accostarci come se Dio dovesse in qualche modo rifiutarci. Ma vedete l'iniziativa di accostarsi a noi viene da Dio e non da noi. Nessuno viene a me, disse Gesù, se il Padre non lo attrae. È Dio che ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio. È Lui che ha mandato suo figlio a cercare, a salvare ciò che era perduto. È Lui che ha preso l'iniziativa ed è dunque Lui che vuole accostarti a sé. Ed è per questo che noi possiamo considerare che essendo questa iniziativa divina, Egli non solo vuole accostarsi a noi e farci accostare a Lui, ma ha provveduto tutto ciò che serve affinché questo possa realizzarsi. Infatti l'autore di questo libro meraviglioso, che è la lettera agli ebrei, prima di dire accostiamoci con piena friducia al trono della grazia, parla di un sommo sacerdote che è il nostro sommo sacerdote. Parla di Cristo Gesù e parla dell'opera che Lui ha compiuto ed è in virtù di ciò che Lui ha fatto che lo scrittore agli ebrei dirà poi accostati dunque. Considera non quello che sei, considera non le tue debolezze, considera non la tua miseria, ma considera quello che Cristo ha fatto, che esprime la piena volontà di Dio di accostarti a sé. Considera la gloria che c'è nel dono della salvezza di colui che ha dato suo figlio per i nemici, per coloro che sono senza forza, per coloro che sono morti nei loro falli e nei loro peccati. Considera l'iniziativa di Dio rivolta a te e considera quale sia l'opera che Cristo ha compiuto per te. Considera la gloria di quella croce, considera il fatto che su quella croce Egli ha preso tutte le tue debolezze, ha preso i nostri fallimenti, la nostra fragilità e la portate lì sulla croce per inchiodarle. Considera questo e considera dunque che quel sommo sacerdote ha fatto tutto questo, non per sé stesso, ma per te. Lo ha fatto in vista del tuo bisogno. E bada, quando Dio progetta qualcosa, non lascia niente al caso o di incompiuto. Egli ha pensato a tutto ciò che era il tuo bisogno e su quella croce, attraverso quella croce, l'ha compiuto. Infatti Cristo può gridare a piena voce prima di ispirare. Tutto è compiuto. Ed è compiuto per te. Ora immagina questo. Ed era questo che meditavo in questi giorni e mi ha affascinato, per quello ho voluto condividerlo con voi. Immagina questo. Dio che prende l'iniziativa e paga il prezzo più alto per la tua salvezza, per compiere per te quell'opera che ti introduce nella grazia. Ma tu? Tu dici sì, però io no. Io non sono capace, io non sono degno. Ma pensi davvero che Dio metta in atto un piano che costa la vita di suo figlio e che non sia sufficiente a raggiungere l'obiettivo nella tua vita? Quando Dio compie qualcosa e in Cristo ha compiuto il dono più grande all'umanità, quel dono è capace di risolvere ogni problema di ogni uomo sulla faccia della terra. Perché ciò che Dio fa è sempre e comunque perfetto. Ed è questa la gloria. Non è credere in me, ma credere in Lui. Non è guardare a me stesso, ma guardare a Lui e dire io non merito nulla, ma Dio ha fatto tutto alla perfezione. Ed è in virtù di questo che l'autore dice, avendo un gran sommo sacerdote, il sommo sacerdote che entrava nel luogo santissimo per offrire il sangue, per chiamare la propiziazione, il favore di Dio, per conquistare il perdono, per conquistare l'aiuto, il soccorso. E lo faceva con sangue di animali, Lui che doveva offrire non solo per il popolo, ma anche per se stesso, poiché anche Egli era un peccatore. Ebbene, quello era figura di qualcosa di più eccelso, di qualcosa che Cristo ha compiuto. Ed Egli non ha presentato sangue di animali, ma il suo proprio sangue. Ed Egli è sacrificio e sacerdote al contempo. Un sacerdote perfetto, senza macchia, né ruga, né imperfezione, che porta un'offerta perfetta. E non la porta all'interno di un tempio fatto da mano d'uomo, ma la presenza di Dio stesso nei cieli, affinché per mezzo di quel sacrificio, ogni mia necessità possa essere soddisfatta per l'eternità. Ed è per questo, in virtù di questo, che lo scrittore dice dunque, dunque oggi puoi per mezzo della fede accostarti, accostati, accostati non riguardando a te stesso, ma accostati riguardando a quel sommo sacerdote che ha compiuto tutto questo per te, che ha fatto tutto questo per te, accostati e non accostarti titubante, timoroso, fragile, come se ci fosse dubbio, chissà se l'Eterno mi accoglierà, chissà se, perché questo vorrebbe dire non aver compreso in nulla e per nulla quale sia stata l'opera del nostro sommo sacerdote. Se il figlio dell'uomo vi farà liberi, voi sarete veramente liberi. Ed è questa gloria che l'autore vuole sottolineare, descrivendo l'opera di Cristo come sommo sacerdote, ma anche manifestando quelle che devono essere le conseguenze nella nostra vita, la piena libertà dei figli di Dio, che possono accostarsi con piena fiducia al trono, che non è più un trono di giudizio, ma è un trono di grazie. Perché? Perché coloro che credono in Cristo non sono giudicati, ma sono passati dalla morte alla vita. Il giudizio che doveva cadere su di noi, su chi è caduto? Su Cristo Gesù. Ed è per questo che io posso accostarmi, con piena fiducia, ad un altro trono, che non è un trono del giudizio. Ricordate cosa dice nella lettera ai Romani, a capitolo 8? Non c'è ora nessuna condanna. Non c'è ora nessuna condanna. Non c'è ora nessuna condanna per quelli che sono il Cristo Gesù. Perché il sommo sacerdote l'ha portata via. Che rimane dunque se non c'è più condanna? Non c'è più peccato. Che cosa rimane? Rimane quella manifestazione gloriosa della grazia di Dio. E come leggevamo all'inizio, colui che ha dato suo figlio per noi e non l'ha risparmiato, come non ci donerà tutte le altre cose con noi? Ed è per questo che noi siamo pieni di fiducia e non ci lasciamo sgomentare dai sensi di colpa, perché Cristo su quella croce si è portato via anche le nostre colpe. Ma entriamo in una nuova realtà, quella benedetta, gloriosa realtà che è la grazia che riposa sui figli di Dio. Perché tali ci ha resi il nostro sommo sacerdote, figli di Dio. E come tali entriamo alla presenza di Dio. E come tali ci accostiamo al Padre, perché Egli ci ha resi tali in Cristo Gesù. E allora accostiamoci di puro cuore, accostiamo con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Voi è un tempo che Dio ha stabilito, in cui Egli manifesta la sua gloria sulla vita di ciascuno di noi. Ebbene, ci sono molte cose da cui noi dobbiamo trovare soccorso, per cui noi dobbiamo trovare soccorso. Molte cose per cui abbiamo bisogno della misericordia di Dio. Molte cose che richiedono l'intervento di Dio. Ciò che crea angoscia ed ansia nei nostri cuori è, lo farà Dio per me? Ed è a questa domanda che lo scrittore risponde. come puoi chiederti se Dio lo farà? Non ha preso Lui l'iniziativa di venirti a cercare? non ha dato Lui per te suo figlio? Come puoi chiederti se lo farà? Di che cos'altro hai bisogno per dimostrarti l'attitudine che Dio ha nei tuoi confronti? Vedete, qua lo scrittore dice accostiamoci di puro cuore fermo restando che il nostro accostarsi a Dio non dipende da ciò che noi siamo, ma malgrado ciò che noi siamo, in virtù di ciò che Cristo ha fatto, noi ci accostiamo con piena fiducia. Di che bisogno hai? Qual è il tuo bisogno? Quest'oggi. I bisogni possono essere tanti. C'è chi grida a Dio per il bisogno di salvezza, ma grazie a Dio le porte della grazia per la salvezza sono ancora aperte. Accostati a Dio e ricerca salvezza nel nome di Cristo Giusù, di colui che ha comprato la salvezza per ogni uomo. Accostati perché lì non troverai un Dio disinteressato, ma troverai un Dio che ha dato suo figlio a questo scopo, a questo fine, per portarti a salvezza. Ed è questo il primo bisogno. Nessuno si accosti a chiedere qualcos'altro se prima non ha chiesto. La salvezza della propria anima a Dio, poiché questa è la prima cosa che deve essere chiesta, senza la quale tutto il resto non giungerà, poiché solo coloro che hanno ricevuto nuova vita in Cristo Giusù e sono stati fatti per mezzo della nuova nascita, figli di Dio, sanno di poter trovare ebbene, sappi però che la salvezza ti è offerta. Credi in Cristo Giusù, accostati al trono della grazia per essere soccorso. E se la salvezza è nella tua vita, ricordi che la salvezza è sempre attiva ed egli riguarda con favore a te. E tu non sei più uno sconosciuto, un amico importuno, ma sei un figlio per il quale il padre ha dato suo figlio. Ed è per questo che puoi essere sicuro che colui che ha dato suo figlio e non lo ha risparmiato per te è pronto a donarti tutte le altre cose. Anche perché egli ha preso un impegno nel momento in cui ti ha adottato come figlio. E mai si potrà dire nell'universo che Dio è venuto meno ad una sola delle responsabilità che egli si è assunto come padre di coloro che ha adottato. per farci sempre più vicini a Dio. Troviamo la fiducia per ma un volto di grazia per essere soccorsi nelle nostre necessità qualunque esse siano perché tale è la grazia del nostro padre tale è l'infinito amore che egli ha manifestato per noi. E allora non rimanere a distanza. Accostati a colui che per primo ha fatto un passo verso di te, un passo glorioso, un passo dal valore eterno, un passo dal costo incalcolabile ma che Dio ha fatto per raggiungerti. Ed è per questo che tu puoi accostarti perché hai questa certezza che l'iniziativa è stata la sua. Un'iniziativa che ha dimostrato con il sangue di suo figlio di volere con tutto se stesso. Ecco le basi della nostra fiducia. Non riguardare mai a noi stessi ma riguardare sempre a colui che per primo ha fatto un passo verso di noi, un passo glorioso, eterno, magnifico, per il quale noi gli siamo grati eternamente, manifestando con la nostra adorazione, con la nostra lode e soprattutto con la nostra obbedienza il valore di ciò che Dio ha compiuto dando suo figlio sulla croce per noi. Voglia il Signore donarci questa fiducia e nel tempo della preghiera il pensiero non sia cosa faremo quando usciremo da questo locale di culto ma nel tempo della preghiera siano le nostre richieste di fede portate a lui accostandoci con piena fiducia al trono di grazia che egli ha disposto in Cristo Gesù dinanzi a tutti coloro che credono. Chieniamo il capo in preghiera.